La sconfitta sul terreno dell'Aquila non ha affiaccato in alcun modo l'entusiasmo del Casal Bordino, desideroso di riprendere al più presto la poderosa risalita dai bassi fondi, iniziata con l'avvento in panchina di Misteri di Luigi e il poderoso restyling dell'organico operato dal sodalizio del patrono Santoro che torna a giocare al Nicola Galante, ospitando il capistrello, reduce a sua volta la sconfitta. La sconfitta dal parigio interno con l'ambizioso Giulianova. I Granata di Mister Giordani navigano in una posizione di classifica di relativa tranquillità e la differenza sostanziale delle motivazioni è il grimaldello sul quale vogliono agire i casalesi per scardinare la retroguardia Granata. Tra i padroni di casa si segnala la pesante assenza di Capitano della Penna, centrocampista col vizietto del gol, che avrebbe fatto molto comodo in questa occasione, ma tant'è. I giallorossi di casa sono come al solito propositivi, ma non troppo precisi come in altre circostanze. Il primo affondo dalle parti di Mario Di Girolamo arriva sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina con lo stacco in area di Bonasia che spedisce alla sfera oltre il secondo palo. I locali che esercitano un discreto predominio territoriale continuano ad avere difficoltà a sfondare davanti all'estremo Granata. In questo caso ci prova anche Mangiacasale, che nella gara odierna scende anche con la fascia da capitano, che si trova sulla traiettoria, ma il suo intervento fa impennare la sfera che si spegne sul fondo. E se i casalesi insistono, ma senza finalizzare adeguatamente, il capistrello, mai pericoloso dalle parti di Tor, riceve da quest'ultimo un regalo inaspettato e sicuramente non voluto. E il ventottesimo, infatti, quando l'estremo giallorosso esce a valanga sulla corrente Daniele Di Girolamo, è per il signor Orazietti, fischietto piemontese, che arriva dalla sezione di Nichelino, non rimane altro che indicare il dischetto. La battuta è affidata a Franchi che non sbaglia, portando i suoi a condurre. Si tratta, come vedremo, dell'unico tiro Granata nello specchio della porta, ma è un tiro che vale tanto. I padroni di casa cercano di reagire immediatamente, ma neanche la dea bendata è particolarmente benevola in questo frangente, quando sulla conclusione in area di Di Pasquale c'è la fortuita deviazione di Fantozzi, che indirizza sulla traversa. Il primo atto si chiude con la clamorosa opportunità fallita da Salguero, che si invola verso la porta ospite, ma a tu per tu con l'estremo rivale calcia su quest'ultimo, tra il vibrante disappunto della tifoseria locale. Il numero 9 casalese prova a riscattarsi in apertura di ripresa, quando interviene sullo spiovente da fermo di Regner, ma la sua zampata, che dà inizialmente l'illusione ottica del gol, manda invece il pallone a spegnersi a fondo campo. Stessa sorte poco dopo per la battuta di Grandis dal vertice d'area. I giallorossi di casa, che protestano spesso lamentandosi del gioco rude della squadra ospite, placano gli animi al nono, quando arriva il pesante provvedimento disciplinare del direttore di gara, che estrae il rosso per sommaria munizione all'indirizzo del capistrellano Fantozzi, per lui ritorno anticipato sotto la doccia. E Casalbordino rinvigorito per l'inattesa superiorità numerica, che non va a coincidere con quella di risultato ancora favorevole agli ospiti, che al diciannovesimo si salvano con la tempestiva chiusura di Rozzi su Bonasia. Pochi istanti dopo Mario Di Girolamo compie una prodezza, annullando il diagonale di Grandis, destinato altrimenti a infilarsi nell'angolo più lontano. Il Casalbordino ci crede, ma le velleità di rimonta si infrangono al ventisettesimo, quando il contestatissimo fischietto piemontese non ritiene di intervenire in seguito all'intervento in area di Brusca, ai danni di Regner. L'azione prosegue con la ripartenza ospite e con il conseguente fallo di Grandis su Mastrone, e anche in questo caso il direttore di gara provvede ad estrarre il secondo giallo di giornata, stavolta ai danni del numero 11 giallorosso, che deve abbandonare il proscenio pareggiando di fatto il conto dei pedatori in campo. La squadra di Mister Di Simone si riversa comunque dalle parti di Mario Di Girolamo alla disperata ricerca del pareggio, che sfugge di un soffio a Salguero, protagonista di una spettacolare rovesciata neutralizzata dal decisivo intervento dell'estremo Granata. I locali cercano con insistenza di rimettere in sesto il risultato, ma i sogni si infrangono definitivamente al trentottesimo, quando anche Martinez riceve il rosso per somma di ammunizioni. Nei minuti finali il Casalbordino prova con la forza della disperazione, ma senza apprezzabili risultati. E prima del triplice fischio andiamo a registrare il secondo tiro del capistrello dalle parti di Thor, ma la conclusione del neoentrato Visconti non inquadra il bersaglio grosso, anche se alla fine per i Granata può bastare anche così, visto che ottengono il massimo dei risultati con il minimo sforzo. Mister Gianluca Giordani, oggi una vittoria di misura preziosissima col minimo sforzo, perché praticamente avete calciato in porta soltanto nell'episodio del calcio di rigore. Sì, effettivamente, devo dire che quest'anno è la prima partita che mi capita di vincere in questo modo, nel senso che la squadra avversaria sicuramente meritava qualcosa di più di noi. Però il calcio è questo, ci sono state altre occasioni dove meritavamo noi, noi non avevamo subito niente e però avevamo perso la partita. Oggi invece fortunatamente i ragazzi sono stati bravi, la fortuna è stata con noi.